eccolo ragazzi eccolo! attenzione il primo albero buon bello 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 bene 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 guarda ragazzi l'arba è un colpone si vede la larva dopo sblocchi l'ape le api porca miseria quanti alberi mamma mia ma che c'è? sono 200 tu ti torno a me sono sbattate è una cosa strana in effetti non mi faccio nulla vabbè aspettiamo trovata! 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 qua lo metto qui ci pungono però ci sono tutte le api ciao a tutti i gamers noi siamo i games lovers benvenuti su un nuovo video di planet crafter allora ragazzi siamo quasi a metà dello step dagli alberi agli insetti agli insetti vermi noi dobbiamo farvi vedere qualche novità diciamo che esplorando un po' di nuovo i punti in cui siamo passati insieme abbiamo trovato diverse casse diciamo che le cose un po' più importanti che abbiamo trovato sono due chip una larva non comune larva non comune che come abbiamo ipotizzato infatti c'era anche la non comune si usa nell'incubatrice che ancora non ha sbloccato no non ancora un fossibile per le piante per la pressione e uno di ossigeno ah no ossigeno uno di ossigeno e qua giocando abbiamo sbloccato l'ottimizzatore della macchina G2 ma ragazzi abbiamo terminato lo step tra virgolette del calore come potete vedere non si può fare perché serve l'ossidiana che ancora non si sa dove sia e non abbiamo la minima idea di come si faccia e abbiamo sbloccato anche lo spargitore di alberi quello ora lo useremo questo 3 semi di alberi 3 spargitore di alberi esatto eccolo qua ok perfetto con questo lo faremo l'ottimizzatore ecco devi sostituire cose di cibo eh ah eh si un paio li abbiamo messi davvero nello scorso episodio abbiamo messo un paio di G2 però vabbè ora ragazzi ne abbiamo abbastanza devo dire si quello si qui abbiamo messo no scherzavo l'unico che ci mancava l'inipolia non mi ricordo è il soleus quindi seme di virma ok mettiamo i 3 spargitori di alberi abbiamo un fusibile per il potenziamento delle piante quindi metteremo i 3 spargitori di alberi esatto con un potenziatore l'ottimizzatore appunto delle piante su questi 3 gli alberi esatto e iniziamo la ricerca anche dell'ultimo seme di albero intanto mettiamo questi 2 io direi che me ne prendo si lo facciamo le piante ok l'ossigeno lo metteremo ragazzi intanto vabbè era per farvelo vedere la larva la posso mollare qui si molla la qui no? aspettate quelle altre ah qui ok due comuni e l'arva non comune e ancora non comune abbiamo trovato parecchie cose e craftato per metterci avanti diverse cose vediamo un attimo cosa serve per fare lo spargitori di alberi fertilizzante campione di batteri superlega corteccia d'albero e la pepita ne facciamo 3? preparano in 3 intanto vai ok quindi 3 di questi 3 fertilizzanti 3 legni 3 legni 3 campioni di batteri quella sarà un po' più dura wow ci abbiamo tutto ci abbiamo tutto ci abbiamo tutto vediamo il video qua e vedete 3 superlega ragazzi abbiamo tutto abbiamo tutto piazziamo in pp2 intanto questo lo sta facendo? ah perchè non l'ha fatto? eccolo ok ora è iniziato però non ho fatto prima anche la ricerca forse non ho aspettato che facesse la ricerca completa non lo so che partisse esatto forse dovevo aspettare e 3 superlega direi che ne abbiamo non so direi che c'erano anche 4 razzi da poter mandare e nell'ultimo episodio abbiamo sbloccato il circuito stampato di Satisfactory no abbiamo sbloccato il quello per smantellamento G2 ok e siamo andati dentro a prendere i circuiti stampati praticamente smantellando le componenti avanzate dentro che richiedevano lo smantellamento G2 esatto abbiamo trovato i circuiti stampati nuovo progetto ricevuto incula e incubatrice ragazzi questo strumento per creare nuovi insetti con larve e mutageni è facile le mutazioni possono dar vita a larve differenti con la stessa formula alcune mutazioni devono ancora essere scoperte hai letto l'energia che serve? 215 215 l'energia ah ragazzi dovevamo ancora fare questo il calcolo automato che però 255 di energia si direi di mollarlo un attimino per un momento un attimino partiamo con calma spargitori di alberi e poi volevo anche come si dice volevo anche andare un pochino in esplorazione perché non può mancare allora spargitori di alberi wow più alto un momento diventano verde per un istante prima tutto rosso fermi eh in acqua in acqua aspettate in acqua lo spargitore d'alberi perché lo spargitore di alberi ma in acqua ragazzi ma non è che è lui che servono le pozzette ecco questa teoria è molto qui c'è una pozzetta da qualche parte una pozzetta una di quelle pozze hai capito o no? si ho capito quali ho capito e non so sto ipotizzando le mini pozzettine circolata da roccia oh no non ce ne sono più le vediamo sempre non ce ne sono più ragazzi non ce ne sono più non ce ne sono più te ne ricordi? si si ho capito quali sono era pieno erano dei mini micro laghettini circonti da roccia è questo? si esatto è lui è questo? ok vediamo un attimo si diciamo che potrebbe servono si si potrebbe servire a quello solo che a sto giro non può potenziarli poi allora no vabbè uno lo metto qua wow gli altri li metto qui però li metto vicino all'erba in modo che me li fa di qua gli alberi magari per una fonte sempre d'acqua devono avere sempre una fonte d'acqua infatti vedo dei tubi vedi c'ha dei tubi se lo metto qui mettilo lì sulla riva vai sulla riva e l'altro qua al centro e l'altro qua non troppo distante perché sennò non ci arriva il qui lo metto vai ok ok belli certo sono molto vicini chi se ne frega perché tu volevi mettere l'ottimizzatore beh togliamo un attimo quello questo perché sennò non li vedo non vedo l'ottimizzatore cos'era più non mi ricordo ah di gas è vero ecco non mi ricordo ah l'ottimizzatore asta di uranio polvere deve fare uno no? ottimo prendiamoci il necessario per fare per fare l'ottimizzatore allora l'ottimizzatore 2 polvere esposiva 2 di ferro 1 cobalto ferro c'avevamo qui cobalto ce l'avevamo qui intanto ne devo fare uno 1 asta di uranio ce l'avevamo qui l'avevamo trovata anche questo esplorando aspetta ok e 2 polvere esposive avevi indicato per il momento quello di 2 ah ok e 2 polvere esposiva mamma mia che abbiamo vediamo se è finito anche questo si ha finito è finito tutti e 3 possiamo metterli subito ragazzi tutti e 3 tutti e 3 i spargitori di alberi abbiamo linifolia aleatus e soleus belli e abbiamo 3 spargitori di alberi e ragazzi l'indicatore vole da 52 sta volando allora vediamo un attimo ossigeno no guardiamo le piante produciamo 8500 si però è un dato che non riesco a ricordare 245.000 vabbè 8500 di piante vediamo ragazzi a quanto sfreccirà si tra che mettiamo i 6 li abbiamo messi molto vicini è uguale che non mi piace tanto quello non c'entra niente meglio per l'ottimizzatore anzi non li va lontani non li piglio sai vero proprio lontani li hai messi dovevo mettere così veramente si ma non li prendi si attenzione attenzione tutte e tre li prendi si è veramente è uguale basta che faccia un numero soleus soleus quanto produce ossigeno e piante si piante 485 una marea mi sa mi sa che è una marea eccolo ragazzi eccolo attenzione il primo albera soleus soleus comunque abbiamo scoperto cosa servono ste pozzetti mi sa per loro aleatus aleatus oddio non vorrei che sia diverso sembra molto simile a questo vedi le foglie ah si è vero vediamo vediamo e il linifolia il linifolia ragazzi pronti ma tutti varie alle basi ok no 485 480 anzi sono anche potenziati questi oddio ma che è l'arve comuni appiccica stanno crescendo l'altra l'altra stanno aspetta è pieno di l'arve c'è un'altra qua ma non sono rocce che paura stanno crescendo gli alberi ragazzi gli alberi alberi voglio fare quello dell'arve ora dei colatrici si si la facciamo no dai guarda l'altra non ho visto ancora quello eccolo che bello buo bello 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 bene bene guarda ragazzi l'arve ma perché ma quante larve ci sono amicina agli alberi forse guarda si è spawnata insieme all'albero è spawnata insieme all'albero ma dai lo vedrete nel video spawna in contemporanea appena cresce un pochino l'albero pom larva fino a qua arrivano vabbè spaventare l'albero sarà bello cavolo no io ragazzi ci sto rimanendo bellissimo anche qui cosa qui larva un'altra qua intorno fare la farm di larve anche secondo me perché stanno spawnando come gli altri no io non ci posso credere bellissimo questa cosa stupenda ci sarà una rarità più alta anche del comune un comune una terza la rarità magari la rara vediamo non lo so allora cosa dobbiamo fare io vorrei far quello lo possiamo fare però una cosa io mi preoccupa l'energia più che altro anche a me però questi consumano l'energia grazie ma che ci servono se fanno 28 e uno di questo fa 5,38 nk si infatti cosa ci facciamo di tutti questi qua penso che il rapporto sia 28 a con 500 appunto li smantelliamo tutti anche perché tanto il calore abbiamo il ramo del calore è finito io ragazzi smantellerei e qua mi terrei allora il posto per farci queste nuove cose perché questo consuma un po' di energia secondo me se lo metti salta tutto è infatti spero di no ma allora mi elimino un po' le cose che ho preso adesso mi ha fatto un po' le aste di video voglio montanarvi non voglia vediamo che c'erà fra poco il video non so più dove mettermelo il video non so più dove metterlo sono tutto in asta poi con il regillatore in caso lo smantelliamo ma ragazzi il video non so veramente abbiamo ripito un po' di aste ragazzi il video anche alluminio ma usiamo la roba o no mamma mia che ora serve l'ossidiana la violite il quarzo rosa il quarzo verde che non esistono ancora allora l'osmio le larve c'abbiamo su però a questo punto è qui io devo fare un'altra è qua sotto io posso mettere la scala qui nel bio laboratorio perché sarebbe subito collegato al luogo di sotto lo so dove vogliamo mettere le cose lo so prova allora intanto l'incubatrice capsula di ossigeno fertilizzante facilissimo legno quello lì l'ossigeno e la superlega l'ossigeno dobbiamo farlo? sì probabilmente sì non so come fare perché non l'ho mai fatto sì due cobalto non ricordavo è qua esatto e la superlega sì una fatta ragazzi facci mi aspettavo che fosse più difficile quanto aspetta non mi sono presa le cose per fare la scala una cosa che non eravamo ancora ecco dovevo inizialmente le miniere anche G2 ecco sì per scavare i materiali su eccola lì ah ok le miniere G2 per scavare materiali più rari sì è vero anche se non è che ci mancano i materiali in osmio ok vediamo se se me la fa mettere la scala se me la fa mettere bellissimo dipende sai perché fa arrivare dove arriva allora ti posso la mettersi qua guarda sono qui capito io ho le larve i mutageni e le altre cose questa cosa sta perfetta qua ho i fertilizzanti le cortecce le ho messa perfettamente in maniera perfetta perfettamente perfettamente tac e qua ci mettiamo l'incubatrice sì l'incubatrice sì wow come la metto salta tutto fa sì non è saltato niente non è saltato niente bellissimo no io io sono senza parole io sono senza parole ci metti qua mostra le formule larva di ape con non comune mutagene fertilizzante larva di farfalla azurai larva rara larva rara la lara sì non comune non comune non due possiamo fare anche il baco da seta e uova di pesce fitoplancton no fitoplancton nb ok utilizzatori di animali 200% cosa di tre va bene partiamo con l'ape la larva comune e quella non comune sì l'ape non comune l'ape poi con questa ma scusami noi abbiamo bisogno di più di queste mettine una lo sai che ne abbiamo bisogno di più vero no mettine una sì per adesso sì non voglio il calore eh tutto il calore è tolto certo ok ne metto una si consuma troppo non comune mutageno e fertilizzante esatto facciamo l'ape prima sì parti con l'ape che è successo è buio ma è semplicemente buio è molto buio sì dobbiamo mettere un po' di luci in casa non comune mi sa che te ne siamo due non comuni però parti con una mutageno chiaramente non mi ricordo cosa mutageno e il fertilizzante non mi ricordo quello nero o quello verde mi sembra fertilizzante ragazzi quello nero quello nero vai vai di là e mettili come per gli alberi come per gli alberi dai vai cos'è che se tu vuoi ah c'è piaci di metteriti si si ma è in casa cosa pioverà ossidiana magari vuole trovare la zona ossidiana ancora secondo me ciao ancora serve di andare a vedere ok vabbè niente di che mettiamo la roba qui mutageno fertilizzante larva non comune non mi hai messo in ordine perché si fa bene lo stesso si eccola ah è appunto interrogativo dimmi che si vede all'interno cioè non è appunto interrogativo non lo sai a quello che viene ma si vede la larva certo è normale schifo mi appare l'ape 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 senza perchè li abbiamo messi di c'è ne sono troppi ma mi ricordate com'era fatto il mondo com'era dirigio rosso questo è bellissimo bello guarda l'altro non guardi mai l'altro poverino questo eccolo lì no sì questo che cazzo fa arrivati in fondo qui è questo qui guarda una situazione ci hanno stia fa enorme no ma guarda che crescono anche altre piantine l'obiettivo del video ragazzi trovare la larva rara ora non ho viste qua in giro vabbè ragazzi sono scioccata mamma mia cioè vai la dopo sblocchi l'ape le api ci sono le api ecco la larva di ape ma adesso dove la metto lo prese esatto e adesso puoi fare l'altra con la non comune puoi fare la farfalla con la comune fertilizzante e mutageno vai e fertilizzante falle tutte comune mutageno e fertilizzante nero vai fai la farfalla anche l'altro possiamo farle tutte tranne quella con la rara ricerca esatto esci eccola ok no ragazzi larva di api aspetta scusami secondo vai dietro vai di qua no 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 qua questa questa è questa cosa ah no rara ok larva rara non comune campione di batteri ahhh non è mutageno ok capito baco da seta ok ok e be li si muta ma ora l'arva da ape ora domanda la larva d'ape il filtro dell'acqua spargito di trentasportatori spargito di albergi due a stabiosmio c'è l'energia No, non capisco, ah, sarà qui, è questo, alveare, 80, ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi, 60, qui stai come un drago, ok, ci siamo quasi, questo no, è lontano, cupola di farfalle, vedi? Sbocchi tutte le cose, l'alveare, l'alveare, altre altre tre larve, ok, ho capito, andiamo in giro a esplorare, ora andiamo a esplorare, e vediamo, storiamo la larva rara, giusto, giusto, ora lasciamo queste cose qui, si, svuotati, i chip, i chip, e abbiamo ancora un, però questo, vabbè, lo possiamo poi mettere, lo mettiamo poi, stiamo esplodendo di alluminio, ragazzi, di roba, alluminio da tutte le parti, non so più dove, quello perché l'hai tolto, non ho capito? Cosa? Quello lì, bianco e nero, è perché mi fa vedere, e mi faceva vedere solo l'ottimizzatore G2, e non potevo creare il G1, ho capito, li metti, ora, ora li metto, sblocchiamo i chip, sblocchiamo i chip, bengala, ok, esplosivo, esplosivo, finalmente ragazzi, l'esplosivo, abbiamo una zona dove, dobbiamo riuscire a far saltare in aria, Quelle rocce rosse crepate, tutte strane, infatti, dietro c'era qualcosa, nel, qui, qui, no, no, Sai che non vorrei che c'è un altro, un altro stronzetto, G2, da sbloccare? Stazione di droni? Non credo proprio? Acquario? Ma, no, 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 dove lo creo? Ah, forse è su qui? Qua? Non lo so, sì, circuito stampato, e due polvere esplosiva, e bengala? Si usa per illuminare i luoghi con luci colorate, smantellalo per sbarazzarli, Ah, ok, polvere esplosiva, una torcia, sì, una torcia, Fai l'esplosivo, ma lo faccio? Fanne uno, perché abbiamo una zona d'esplosiva devastante, Ne abbiamo tante d'esplosiva, due polvere esplosive, un circuito stampato, è facilissimo, E il circuito stampato, esatto, due polvere esplosive, due polvere esplosive, Ok, intanto ne facciamo uno, in modo che, ce l'abbiamo, se potessi servire, si può provare, Ok, abbiamo la larva di apre, che posso anche lasciare qui, volendo, Sì, quella sì, prenditi l'ossigeno, prenditi l'acqua, prenditi il cibo, e partiamo, Qua, questa cosa è stata geniale, Oh, farfalla azzurale, Puoi fare l'altra, eh, puoi fare l'ultima, Non mi ricordo se era non comune, batterie e fertilizzante, Per fare l'ultima, possibili per noi, No, no, non comune, batterie e fertilizzante nero, Ok, dai, buttiamo anche questa, E l'ultima, E loro le mettiamo tutti qua, Poi, poi ragazzi, quando avremo, L'alveare, per le api, ce le buttiamo nero, Per le farfalle, ce le buttiamo, Vediamo un po', Ok, sequenzamento, Ok, ragazzi, possiamo andare a esplorare, Allora, Oh, porca, quanti ce ne sono, Porca miseria, Quanti alberi, Mamma mia, Bello perché li hai tutti compenetrati, vedi? Sì, Siamo attenti e cerchiamo di trovare la larva, Rara, ragazzi, La la c'è una cascata, Mamma mia, enorme, Gigante, Ok, quindi abbiamo capito, Cioè, perché qua, Come fai a far crescere gli alberi, In una zona magari, In cui non, Crescono, Non posso, Non c'è acqua? Con le pozzette, Prima o poi c'è la sua, Senti, Qua è rimasto deserto, Vedi? Qua è tutto deserto, Con l'acqua, Con l'acqua, Con l'acqua, Con un po' d'acqua, Con un po' d'acqua, Che è il collegamento al coso dello zolf, Ah, Bello tutti questi fiori, Bello, Per caso se vedi delle, Dell'armer, Ecco, Quello che sto vedendo, Oh, Torna indietro, No, Torna indietro, No, Piazza la larva, Allora, Prima del, Dopo, Ragazzi, Le cose lo facciamo, Dopo, Larva di apia, Superlega, Fraterizzante, Pabilità, Sì, Aspetta, Cosa? Devi usare la larva di apia, Usa, Non comune, Non comune, Perché c'è, Sono duecento, Tutti intorno a me, Sono spennate, No, Quello che, Il mio dubbio era, Tu, Utilizzavi, L'unica larva di apia, Ma non le devi craftare altre, Probabilmente, Sì, Però poi, C'errivi anche a mettere dentro, La larva di apia, Questa è una grotta, Sbaglio? Sì, Era il mio dubbio, Ho visto che hai trovato, Un'altra botola di arve, Quindi in caso, Tu lo crei, Con una larva di apia, Ma poi dentro, Ti metti cillare di apia, Non so, Vabbè, Hai trovato tre larve non comuni, Puoi rifare, Un'arma di apia in caso, Che verruzza, Cos'è? Superlega, Superlega, Cosa? Sono piena, Superlega, In caso, Poi, Ho avuto, Poi, L'ossigeno, Urca, Grazie, Larva, Una larva comune, Non raccomandiamo più, Adesso, La snobby così, Siamo pieni, Di larve comuni, Comunque, In effetti, Sì, Cichiamo un po', Le non comuni, O le rare, Perché è giallo, Ok, Era gialla, Hai visto che era gialla, Forse perché era, Si incastrava, Probabilmente, Ok, Lascia, Smatelli, Così, Sì, Sì, Io non so, Che caverna è questa? Le superlega, Perché sono quelle, Come minerali, E, Cassa blu, Porca, Io le lascio, Io le lascio lì, Le aste, Quindi lo smio almeno, Lo smio prendilo, Lo smio prendo, Ma le aste le lascio lì, Ragazzi, Quante aste, Di lì c'era indietro, Off camera, Vengo a prenderle, Ma, Cioè, Siamo pieni, Io direi, Che possiamo anche, Andrò a fare la real, Cos'è? Chi? Per lei che? Quello è strano, Il vento è pieno, Ma cos'è? La porta, È una cosa strana, In effetti, Non vuoi farci nulla, No, Vabbè, Aspettiamo, Non ti dice niente, Non so, Sarà la fine del mondo, Come la fine del mondo? Non lo so, Ma poi finirà, Ah, Dici che è finito il, Non so, Ok, Superleghe, Tante superleghe, Tante superleghe, E quella strana porta, Che non fa male, È arrivato anche l'archivement, Con scritto, Porta, Punto interrogativo, Aprire litti, E dentro, Ci sono, Zolfo, Superleghe, A sederiglio, Osmio, Io lascio questo, E prendo il cifre, Sì, E basta, E basta, Poi ragazzi, Torniamo, Torneremo, Sei piena, Non so, Però è più forte di me, Non ti addentrare, Tornaci fra poco, Devo esplorare, Sì, Ma sei piena di roba, Non puoi raccogliere cose, Se esplori, Quindi vai a casa, Ti svuoti, Fai l'alveare, Torni qui, Guarda gli alberi, No, Facciamo l'alveare, E mi sa che facciamo, Ci vediamo al prossimo episodio, Ragazzi, Di già, Allora ragazzi, La vedo un relitto, Qua c'è tantissimo da esplorare, D'altro, Quanti alberi sono notti qui ragazzi, Tantissimi, Perché non è come un'azienda, Stornarci, Cazzu, E dove, Spenda un po', No, Un comune, Però, Non è presa, Sta arrivando una, Non è presa di qualcosa, Dove vai? Un'altra, E' quella dell'osmio, E' che è tutto blu, E' allora, L'ossigeno? Sì, Cos'è in casetta, Cosa? L'arba, È roma, Trovata, 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 Siamo fare anche l'altro bacco, L'altra cosa, Tantastronza, Raccoglila, c'è un'altra lì, è un'altra è bianca no ma perché è bianca ma perché è bianca no, è la luce è la luce ragazzi ah piuttosto mi prendo la luce si esatto brava scusatemi ma quante ce ne sono ci vediamo in un punto e nascono 200.000 larve ok vabbè questo è tipo 4 lì non sto leggendo è comune è comune, le riconosci da come sono fatte non comune ragazzi ho capito allora torniamo a casa si trovano, basta girare 5 minuti in ogni caso abbiamo trovato un bot di larve possiamo fare quella che mancava la giuro possiamo fare quella che mancava e possiamo provare a vedere come funziona esatto se dopo averlo creato con la larva d'ape devi metterci dentro altre larve d'api probabilmente si spero probabilmente allora per ora non abbiamo trovato i cosi per l'esplosivo però vediamo magari nel prossimo episodio lo possiamo anche andare io vi ricordo uno con dietro una porta ce ne sono tanti ce ne sono tanti ce ne sono tanti niente magari nel prossimo episodio magari andiamo a vederci quell'osi lì oppure andiamo dall'altra parte della mappa che ci siamo andati poco e qua abbiamo trovato una porta strana si molto strana è vero poi niente esplorazione poca di quelle cose tu vedi qua non ne trovi di larva si trova dove c'è natura dove c'è sono gli alberi alberi dove c'è vita dove c'è vita e ragazzi poi volevo tornare dare cascate per esplorare meglio infatti non so se ora qua abbiamo costruito anche tanto vediamo anche se riusciamo a fare molta esplorazione magari nel prossimo episodio no ma non mi sembra dietro quella ok poi di là scavalca la roccia ah no è una roccia niente se sto fermo appaiono si infatti funziona così no ok ma guardate gli alberi e quanti ne sono cresciuti tantissimi ma ma non si vede più niente non posso nemmeno passare abbiamo messo inizio video ragazzi sono esplosi bellissimo bellissimo di bere questa cosa si davvero davvero bello bello allora siamo di ritorno alveare ossigeno direi di fare l'alveare che come si fa l'alveare direi di fare l'alveare però devo prendere intanto l'ape metti a fare un'altra larva metti a fare la larva con la larva rara intanto togliamoci un po' di roba si siamo non pieni un chip vado subito ad analizzare il chip decodifica chip visualizzazione dei droni per adesso droni non ne abbiamo no l'abbiamo visto sbloccato molto più avanti il drone era qui stazione dei droni ragazzi era noi siamo a 6,25 no direi che è lontano da me all'alveare ragazzi ok larva tappe ah io sai cosa ne farei più di uno aspetta è una larva tappe adesso non è i due fanno uno ok ne facciamo uno dai poi vediamo se poi servono ecco insetti iniziamo a creare insetti si la voce ah capito una voce insetti esatto quindi mi sembra anche sbloccare robe anche io la bioplatica la vita e l'alva d'ape ragazzi vai andiamo a creare con l'alva rara fuori bello bello ma anche l'ho fatta così qua davanti a casa dove sta andando qui davanti a casa qua lo metto perfetto qui ci pungono ci sono tutte le api tutte le api ragazzi aprilo apri alveare fai miele e non di caso non bisogna utilizzare ah no aspetta no ah no lì la coglia il miele si non bisogna utilizzare larve di api no infatti però se vuoi farne di più no c'è per le api anche dentro vuoi le api in casa ragazzi no se vuoi fare più api più alveare devi fare altre altri alveare di api mi pungono così va bene va bene va bene guarda poi che api sono giganteschi sono calavroni ragazzi vai a creare gli altri risetti veloce allora se ne davvero c'è un altro se ne davvero un altro alvero un altro nolli un altro cernea con il seme di nunna non si riuscirà mai a smettere eh mutageni non ne ho più non ho più mutageni eh si ci manca il cernea allora ok adesso cosa facciamo io volevo fare mettere in esecuzione l'ultima larva che è quella rara è mutageno è bisogno anche l'altra quale? ah ce l'abbiamo eccola lì il bacco ragazzi ok manterebbe quella più bella venga la più bella vai a farlo c'è la mutageno? questa fa 230 cosa? questa fa 220 questa 120 questa 230 falla subito quindi va bene 200 ah mutageno e fertilizzante ma ce l'hai un mutageno? no non ce l'ho più si ce l'hai lì falo qua ah ce l'ho io non si vedeva che ce l'avevi ma mancava solo il fertilizzante nero è vero? uno nero di là fertilizzante nero nooo vabbè ma posso farlo eh tre alghe due melanzane uno zolfo ok ecco dobbiamo riprendere un po' le alghe non sblocchiamo più niente per favore perché sennò non ci scendiamo avanti o chiudere il video no perché sennò non lo finiremo mai il video però io voglio mettere anche l'ultima larva ok questo è giusto perfetto posso andare giù e mettere l'ultima no larva rara 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 e mutageno e il mutageno ricerca ci vede l'ultima larva ragazzi eccolo mamma mia ragazzi cosa cos'è bisogna capire cos'è voglio vedere che animale è voglio vedere lo finire adesso venga perché tirare le farfalle no 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 abbiamo visto il baco da seta è vero non ho visto non abbiamo visto cosa ci svolazzava dentro è vero la 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 teca le api ho fatto veloce le api il valore in set miele clic col destro per consumare ripristino la salute si 10 vedai che poi potrei farci qualcosa probabilmente si questo è da 40 il 10 potrei farci qualcosa non è per mangiare e larva davanti alla veare ah ma è comune e larva comune comunque rara attenzione un'altra rara ragazzi due in un video solo incredibile un'altra rara un'altra rara entra dentro vediamo un po' ancora particelle ragazzi si 87 ci siamo ci siamo ah aspetta per curiosità quanto sei a modo step 73 ok dai va indietro va bene così va bene così perché se no esplodiamo oggi quando sblocchiamo vai nelle piante ormai sblocchiamo anche il filtro dell'acqua vai nelle piante filtro dell'acqua consente di bere direttamente dai laghi eh dai laghi i setti vedi eh si cibo d'alta qualità col miele sicuro al 100% col miele 140 manca 40 ok sarà pronta è pronta è pronta adesso è pronta si eccola farfalle bianche e nere bellissime e picche assurde bellissime prendila perché servirà poi ma abbiamo fatto tutte e quattro i tipi di larve ragazzi tutte e quattro e una già utilizzata anche per fare l'alveare ora ci mancherà quella blu il bacco e quella dove è il bacco il bacco il bacco la blu e la bianche e nera però loro ecco dobbiamo metterlo nella cupola delle farfalle si che sblocchi fra 40 che sblocchiamo tra un po' esatto e niente ragazzi direi che per questo video su planet crafter possiamo concludere qui anche perché se no appunto non ci fermiamo più no volendo potremmo mettere anche no scherzavo eeeh le api svolazzano i primi animali messi sono le api incredibile davvero assurdo guardate da dove siamo partiti e vedere questo con gli alberi le api e le larve in giro è assurdo bellissimo bellissimo eeeh niente ragazzi vi ricordo anche di iscrivervi al canale come avete fatto mettere mi piace attivare la campanella per essere sempre aggiornati per quando uscirà un nostro nuovo video ragazzi da noi e le nostre amici api è tutto alla prossima ciao 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 ciao